Si ritroveranno in sella le loro bici in piazza Garibaldi domenica 28 agosto di Buon Mattino per raggiungere, pedalata dopo pedalata, il lungomare di Cefalù. Un'escursione in mountain bike organizzata per il quinto anno consecutivo dall'Imera Family Bikers. Un appuntamento cresciuto negli anni al quale gli appassionati delle due ruote sembrano non voler rinunciare. Una giornata dopo quella di fine luglio, quando un gruppo di 20 ciclisti hanno scalato l'Etna raggiungendo uno dei criteri centrali, all'insegna del divertimento e mezzo alla natura, che si concluderà al tramonto e che vedrà i ciclisti dell'associazione sportiva e tanti altri provenienti dalla provincia attraversare la valle dell'Imera, il ponte Cinquearchi, Resuttano, Tremonzelli, Caltavuturo, Scillato, Buonvornello, sin a aggiungere a Cefalù. Anche quest'anno il nostro club, l'Imera Family Bikers, organizza la quinta edizione dell'escursione Caltanissetta Cefalù. Quest'anno ci sono 42 iscritti e la partenza dell'escursione avverrà in piazza alle ore 6 di domenica 28 dalla piazza Garibaldi per arrivare sul lungomare di Cefalù, dove poi finiamo con un bagno così defaticante, una doccia e il rientro in pulmone solo e in esclusiva per noi. Qual è la difficoltà di questo percorso? Diciamo che ci vuole un minimo di preparazione perché sono quasi 128 chilometri che percorriamo per il 90% tutto in fuoristrada. Ci sono delle asperità e delle pendenze che possono superare a volte anche il 15%, però quello che è importante è che la lunghezza del percorso fa sì che nelle ore più calde della giornata saremo praticamente in bici. È bello perché riesci a tirarti dentro più persone possibile. La macchina organizzativa fa sì che a seguito ci saranno due furgoni che incontreremo in quattro pistop per fare il rifornimento dell'acqua, dei sali minerali e della banana perché servono. Forse il nostro club è quello di aggregazione e di amicizia. Quest'anno si sono inseriti cinque membri nuovi e hanno visto come la nostra filosofia, che non è quella più agonistica ormai, ma è quella di aggregazione ed amicizia e vengono per puro divertimento. Abbiamo già in calendario altri due impegni. Il prossimo weekend, quello del 3 settembre, collaboriamo per una festa che fa la strada Foglia in feste dove noi faremo un piccolo percorso cittadino all'interno delle viuzze e la strada Foglia e ci sarà un responsabile che ci aiuterà e ci farà da Cicerone. Andremo a visitare anche le catacombe della chiesa di San Domenico. Poi invece a ottobre facciamo un'escursione di due giorni sui Nebrodi con una persona responsabile che ci farà da guida.